Con l'annuncio del finanziamento per la linea 3 del tram arrivano anche le prime reazioni da parte dei comitati contrari all'opera o meglio, contrari all'attraversamento degli affacciolati, per il timore che siano pesantemente danneggiati i commercianti e residenti di quella strada. Il comitato no tram, ma c'è anche il comitato no rotaie, nato proprio a Volta Barozzo, dove dovrebbe sorgere il capolinea, chiede che sia possibile modificare il progetto per quanto riguarda il tracciato e il tipo di mezzo scelto. Ora i comitati attendono di essere chiamati dall'amministrazione e coinvolti nelle prossime decisioni. Il comitato no tram aveva raccolto e protocollato in comune oltre 1200 firme. Noto con amarezza che c'è sempre più confusione nel progetto perché, come era stato detto nell'incontro che ho organizzato, non si sapeva neanche ancora quale sarebbe stato il mezzo che sarebbe stato installato nella linea 1, ma ad oggi hanno già dichiarato che sarà il tram. Comunque aspettiamo, come promesso, che l'amministrazione ci contatti e che ci renda partecipi di un tavolo di lavoro in cui si possa discutere il progetto. Grazie a tutti.